Giovedì 12 aprile nella sala conferenze dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta si terrà un convegno dal titolo La famiglia in un'epoca di transizione. Le risposte. All'evento, che si dividerà in due momenti, parteciperanno l'assessore regionale Marielle Eppolito, il fondatore dell'Associazione Vincenzo Sorce e lo psicologo Umberto Nizzoli. La seconda parte dell'incontro sarà dedicata a sei laboratori tematici, ai quali sarà possibile iscriversi prima dell'inizio effettivo del convegno. E nello specifico, il lavoro di rete per la famiglia, guidato da Carlo Campione, assessore alle politiche sociali del comune di Caltanissetta, i servizi per i minori e la famiglia, diretto da Pietro Andrea Cavaleri, psicologo e psicoterapeuta dell'Associazione, il ruolo della scuola in rapporto con la famiglia, coordinato da Giovanni Bevilacqua, preside del centro provinciale di istruzione degli adulti di Caltanissetta, la famiglia e i servizi sanitari, diretto da Marcella Santino, direttore sanitario dell'ASP2 della città, prepararsi a essere famiglia, l'informazione e la formazione per una procreazione responsabile, diretto da Giovanna Garofalo, responsabile del centro di genetica medica dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta, infine la famiglia e la prevenzione delle dipendenze patologiche, diretto da Angela Sardo, direttrice della comunità Terra Promessa. I lavori del convegno si apriranno alle 9 e si concluderanno alle 14.